Ciao a tutti, colgo questa occasione per voler fare una riflessione con voi, come vedete qui a fianco c'è la mia moto ed è veramente pochissimo tempo che l'ho rimessa a posto e oggi me la sto godendo, mi sto facendo un bellissimo giro qui nel posto che a brevissima diventerà appunto la mia casa e voglio cogliere questa occasione per parlarvi di un tema che secondo me è fondamentale che è il tema del fare, in questi giorni ho riparato questa moto con mio padre e devo ringraziare mio padre perché mi ha trasmesso un concetto bellissimo in quello del riuscire a fare le cose anche con le mani, riuscire a trovare quel sapore di aggiustare una cosa, di creare soluzioni, di impastare con la nostra mente la possibile soluzione per risolvere un problema e tutto questo facendolo sempre con estrema bravura e precisione, come dice lui le cose o le fai bene o le fai male e io voglio farle bene voglio farle bene e voglio che questa filosofia del fare, del trovare anche il modo di fare le cose con le mani, possa essere un po' la metafora anche di come vorremmo impostare la nostra vita, voglio immaginare le nostre mani nella pasta della nostra vita, a impastare e modellare la nostra vita, immaginate quanto potrebbe essere bello finalmente sentire, stare a modellare, nel vero senso della parola, ogni secolo attimo della nostra distanza come può essere bene, come possiamo prendere questa vita, e quindi grazie a papà per aver consigliato questa cosa, e buona vita a tutti, ci vediamo presto